A partire dal primo gennaio prossimo tutti gli abitanti della Garfagnana che fanno parte dell'Unione dei Comuni potranno soffrire gratuitamente del servizio Alert System, un'occasione importante per ricevere informazioni utili di prima necessità. 27.000 cittadini che compongono il territorio dell'Unione dei Comuni della Garfagnana avranno gratuitamente a disposizione questo nuovo sistema di avvisi gestito dall'Unione dei Comuni e dai singoli comuni per quanto riguarda gli avvisi più locali grazie al quale verranno messi immediatamente a tempo zero a conoscenza di tutte le informazioni importanti sotto un profilo di protezione civile e di tutela del proprio territorio direttamente sul loro telefono, sul loro smartphone o sull'utenza fissa di casa che vorranno comunicare. Per ottenere tutto questo è necessario andare sul sito dell'Unione dei Comuni Garfagnana, iscriversi gratuitamente e solo dopo sarete avvertiti sul vostro telefonino o il telefono di casa con informazioni utili del territorio garfagnino del vostro comune. Ad esempio la chiusura delle scuole dovuta a un evento alla neve o al ghiaccio o a un evento calamitoso immediatamente tutti i cittadini sanno che in tempo zero che la scuola sarà chiusa, le scuole del loro territorio saranno chiuse o una chiusura di una strada dovuta a una frana o a altri eventi di questo genere immediatamente saranno comunicati così come tutte le interruzioni di pubblici servizi dall'energia elettrica al gas all'acqua nelle case. Per promuovere l'iniziativa a breve partirà una campagna pubblicitaria anche sulla nostra emittente realizzata anche grazie a due testimoni ad eccezione, Gloria Tonini, finalista di Miss Italia e il pruricampione italiano rally Paolo Andreucci.